Si è svolto a Roseto degli Abruzzi l'incontro Labruzzo in meraviglia, il turismo open air dal camping al glamping, evento organizzato dal Dipartimento Turismo di Fratelli Italia per porre l'accento sulle potenzialità e trasversalità di un comparto, quello dell'aria aperta che rappresenta direttamente e indirettamente il 20% del turismo nazionale. L'Abruzzo è innanzitutto una zona meravigliosa, devo dirvi che come propensione di posti letto per il settore open air siamo al terzo posto dietro le Marche della Liguria, quindi vuol dire che la vacanza all'aria aperta in Abruzzo piace tantissimo ed è molto ricercata. E' inutile che vi ricordi che abbiamo 14 bandiere blu, 140 km di costa di cui 131-132 coperte dalla ciclabile che arriva fin giù nella zona dei Trabocchi, insomma meraviglia non finire, vanno ovviamente fatte conoscere. E questo è il nostro scopo, lo scopo ovviamente della Regione e di noi operatori che ci siamo affiancati a loro proprio utilizzando e dando a loro disposizione alcuni mezzi propri nostri, tipo il consorzio Abruzzo Camping, un consorzio di creazione Faita, Feder Camping, che ha appoggiato l'azione ovviamente in sinergia con la Regione per promuovere il più possibile il turismo all'aria aperta. Presente alla partecipata iniziativa il Ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha alloggiato le numerose peculiarità della Regione Abruzzo. Io come Ministro sono molto soddisfatta e vedo che i numeri crescono, che ci sono molti investimenti, immagino anche la pista dell'aeroporto, 400 metri in più, che quindi diventerà un aeroporto non solo internazionale ma intercontinentale. Questo è assolutamente importante, tutto il lavoro che è stato fatto sul turismo open air, voi siete molto fortunati perché come diceva lei avete dal mare alla montagna e qua siamo in un posto di mare che è assolutamente molto bello. Dobbiamo imparare a promuoverlo di più e alzare il livello di tutti i servizi del turismo che sono assolutamente importanti. 11 milioni di arrivi e 70 milioni di presenze è il dato della stagione 2023 dell'open air, saldamente al secondo posto dopo gli alberghi nella scelta della modalità turistica italiana tra i primi a livello europeo. Abruzzo è sicuramente una regione turisticamente molto importante che sta avendo un percorso di crescita significativo. Il mondo del turismo è l'aria aperta, in Abruzzo sta facendo dei passi molto importanti e noi siamo convinti che con i giusti aiuti da un punto di vista normativo e di sostegno all'imprenditoria potrà sicuramente arrivare ad avere delle posizioni di assoluto rilievo.